Protocollo Bari, Bari Centro per l'attuazione di una rete di inclusione, è un modello territoriale di inclusione sociale che promuove una rete fra tutte le istituzioni interessate per fare di Bari città del dialogo, dell'accoglienza, dell'inclusione, dell'integrazione di culture per riconoscere e favorire sempre la dignità umana. Un tavolo permanente innanzitutto per il dialogo tra le diverse confessioni religiose, ispirandosi all'iniziativa Mediterraneo Frontiera di Pace del 23 febbraio 2020 nella Basilica di San Nicola voluta da Papa Francesco non a caso nella città di Bari, così importante per i legami che intrattiene con il Medio Oriente come con il continente africano, segno eloquente di quanto radicate siano le relazioni tra popoli e tradizioni diverse. Una grande responsabilità assegnata ai credenti, ai cittadini, alle istituzioni, ai promotori di cultura, ai costruttori di pace, in una città proiettata su quel mare che Giorgio Lapira ha definito il lago di Tiberiade del nuovo universo delle nazioni. L'obiettivo è affrontare al meglio le problematiche dei flussi migratori, sensibilizzare la cittadinanza, rigenerare le periferie a rischio di esclusione sociale, sostenere le fragilità nei suoi bisogni anche sanitari, offrire servizi adeguati di accoglienza ai pedigrini di San Nicola e ai migranti che vivono il nostro territorio. Insomma, una rete di buona volontà che si preoccupi anche di formare le nuove generazioni, le professioni, ai principi etici della responsabilità che le nuove politiche di inclusione sociale richiedono, grazie alla collaborazione tra le istituzioni accademiche. Un protocollo firmato non a caso il 3 ottobre, giornata della memoria e dell'accoglienza, perché Bari sia sempre più un modello del fare, orto di semi della pace tra i popoli.